Hola a todos y muy buenos días y bienvenidos una vez más a mis clases de español en línea. Ciao a tutti e bentornati alle mie lezioni di spagnolo online. ¿Cómo estáis? Espero que estéis de lo más bien. Spero que siate benissimo. Come promesso, in questo video vi spiegherò la differenza di significato di alcuni aggettivi a seconda che vengano preceduti dal verbo ser o dal verbo estar. Vediamo per esempio l'aggettivo bueno o buena. Anna es buena. Anna è buona, è buona persona. La professora è buona, è buonissima. La professoressa è brava, è bravissima. Atenzione, in spagnolo bravo, brava, si traduce proprio con l'aggettivo bueno, è muy buona, è muy buono, buonissimo. La pasta es buena. Non significa che la pasta sia buona, ma che la pasta fa bene. La pasta es buena para la salud. La pasta fa bene alla salute. La pasta è buona, infatti, si traduce con la pasta está buena. E' buona, è star rica, è fatta bene. El coche es bueno. L'auto, la macchina, il carro, come si dice in Latino America, es bueno, è fatto bene, è fabbricato bene, è stato fatto bene. Lo stesso succede con l'aggettivo malo, mala. Per esempio, Ana es mala, Ana es cattiva, es una persona mala, es una persona cattiva. Se io dico che Ana está mala, invece significa che non sta bene di salute. Così come está buena, vuol dire che sta bene di salute, ok? Oppure, la grasa es mala, il grasso fa male. Attenzione che in spagnolo la grasa è femminile, quindi la grasa es mala para la salud. Parlando della pasta, quella che prima è estaba buena, perché era stata fatta bene. Se invece la pasta non è stata cucinata bene, allora devo dire che la pasta está mala. Al di là di bueno e malo, ci sono moltissimi altri aggettivi che cambiano. Come per esempio l'aggettivo listo. Juan es listo. Vuol dire che Juan è una persona piuttosto sveglia. Se invece devo chiedere a Juan se è pronto per uscire, dirò Juan, estás listo para salir? Sei pronto? Quindi, ser listo. Essere intelligente, furbo, sveglio. Estar listo vuol dire essere pronti. Oppure, ser verde. Il coche es verde. L'auto es verde. Il colore. Il colore es verde. Però está muy verde para este trabajo. Vuol dire che non è ancora pronto per fare questo tipo di lavoro. Stessa cosa per l'aggettivo rico. Ser rico vuol dire tener mucho dinero. El presidente es muy rico, pero no ayuda. Il presidente è molto ricco, però non aiuta. Estar rico vuol dire essere buono, esattamente come estar bueno, come la pasta. La pasta está ricchissima, está buenissima. Come dicevo in un precedente video, estar rico si può riferire anche a delle persone che ci piacciono particolarmente. Estar chica, está ricchissima. Vuol dire che è bellissima, ci piace molto. Altro aggettivo. Orgulloso. Pedro es orgulloso. Quindi, il fatto di essere orgoglioso fa parte del suo carattere, del suo modo di essere. Lui è una persona orgogliosa. Ma se devo dire, e sto muy orgullosa de ti, sono molto orgoglioso de ti, sono molto fiero. Vedete come cambia radicalmente? La lista è molto lunga. Se volete, in un prossimo video vi farò ulteriori esempi. Adesso memorizzate questi. Bene, non mi resta che augurarvi una buona giornata e come sempre, hasta muy pronto. Adiós! Adiós! Adiós!